Abbiamo dei posti che possono essere dati a ruolo in Liguria che arrivano a 2.907 posti. In realtà ne sono stati assegnati meno di 600. La scuola ha bisogno di personale, ma il personale non c'è. I dati della Liguria presentati in queste ore fanno scattare un campanello d'allarme. I posti in ruolo che si potevano stabilizzare per coprire il vuoto lasciato dai docenti andati in pensione sono solo un quarto del fabbisogno. Così, se da una parte si dice che servono più insegnanti a causa dell'emergenza Covid, dall'altra la domanda è se il numero delle assunzioni in ruolo è così basso, la Liguria come potrà coprire il gap? Si ricorrerà nuovamente ai precari, perché la scelta che è stata fatta, una scelta di tipo anche un po' ideologico, un po' tanto ideologico, ha portato a far sì che non si risolvesse il problema del precariato da noi. Questione supplenze. In tutta la regione sono arrivate 38.000 richieste per insegnare in Liguria, di cui 23.000 soltanto a Genova. Gli uffici scolastici che non hanno praticamente più personale, si sono visti piovere addosso anche questo lavoro in più, che poteva essere fatto in tempi più flessibili, consentendo la partenza da subito con personale magari che poteva garantire continuità. Invece ci troveremo ad affrontare le scuole con personale che inizierà, ma dovrà essere formato, dovrà capire la realtà locale in cui lavora, opera, e questo è un ulteriore aggravio. Ma una parte di questi 38.000, seppur molto ridotta, cioè oltre 1.500 quasi, 1.400, poteva essere stabilizzato se avessero ascoltato le richieste che abbiamo fatto in termini di reclutamento. Infine, alcune associazioni stanno inviando diffide a tutte le scuole in cui si contesta l'uso delle mascherine in classe e i test sierologici. La CIS la ritiene un'ulteriore complicazione. O è un bene pubblico, oppure sta diventando molto più spesso, purtroppo, oggetto solo di spot politico-elettorali oppure di spot ideologici. E questo noi non ce lo meritiamo assolutamente.